E quindi Checco torna a casa che il freddo qua si fa sentire E quindi Checco torna a casa che ho paura di Buongiorno a tutti, Match Day quest'oggi, ore 20.45, Bari-Palermo Io però in questo video non parlerò di Bari-Palermo, magari dirò qualcosina alla fine Ma sono qui ad annunciarvi le due ufficialità che avevo già fatto, diciamo, quei video precedenti Ma l'ufficialità vera e propria è arrivata adesso, quindi adesso ne parleremo Mi piace, commento, iscrivetevi perché coloro che guardano tutti i video nuovi non sono ancora iscritti ed è gratis Fatelo, in descrizione link dell'app sul calcio mia e di alcuni miei amici, app gratuita, gratu... è gratis Quindi schiacciate, scaricate, fatemi sapere cosa ne pensate, in privato poi su Instagram Quindi seguitemi sui social E poi, come ultima cosa, gruppo Telegram Sapete che dovete entrarci Ragazzoli sono molto molto contento perché sono arrivati due giocatori, ufficialmente, finalmente Due giocatori che io per cui stravedo, soprattutto di Mariano Bettella lo conosco meno, anche se è un... cioè, lo conosco meno, l'ho visto meno giocare rispetto a Di Mariano Però è un prospetto per il futuro molto molto interessante Che per chi è amante di giochi come Football Manager, sapete che io un minimo amo quel gioco manageriale Bettella è un prospetto per il futuro di gran lunga Cioè di gran lunga, è un prospetto per il futuro molto importante Allora, partiamo parlando un attimo di Mariano Poi parlo di... di Bettella Ma prima vi chiedo a voi, vi chiedo a voi Cosa ne pensate di questi due acquisti Fate il benvenuto qui sotto nei commenti E vi invito, se non l'avete ancora fatto A vedervi il video sulla transizione che ho fatto ieri Video molto speciale, importante, piccolo sfogo Ma ho ricevuto dei commenti che mi hanno fatto battere il cuore E vi ringrazio, vi ringrazio Allora, partiamo da Franceschino Di Mariano Checco Di Mariano Che per chi mi ha seguito Ovviamente vi aspetto Chi è? Ovviamente vi aspetto Questa sera alle 20.45 live sulla piattaforma viola per la reaction Per seguire insieme la partita Ma questo ovviamente già lo sapevate No? C'è bisogno di dirvelo, c'è bisogno di ricordarvelo Checco Di Mariano Classe 96 È cresciuto nel Ribolla È andato via molto giovane È andato prima a Lecce Poi l'ha acquistato la Roma Ha fatto il giovanile quindi tra Lecce e Roma A Roma se ne parlava un gran bene Se ne parlava un gran bene ovviamente anche a Lecce Poi lui è tornato a Lecce Ha vinto il campionato col Venezia E poi con Lecce Quindi meriterebbe di giocare in Serie A Ma per destino lui con le altre squadre In Serie A non ci è arrivato Con noi però, scusatemi Firma un contratto di ben tre anni Tre anni che lo legherà al club Questa cosa ci fa ben sperare Allora, è il nipote di Toto Schillaci Per chi non lo sapesse È nato calcisticamente a Ribolla Ma questo già lo sapevamo Andiamo a leggere il comunicato Andiamo a leggere Voglio un Voglio un checco Bentornato a casa Qui sotto nei commenti Leggiamo il comunicato L'abbiamo acquistato per circa un milione Le cifre non ci sono scritte nei comunicati Però sappiamo sia le cifre di Di Mariano Che quella di Bettella Mi raccomando Entrata nel gruppo Tegram Non vi ho detto niente Il Palermo FC comunica Le verrà acquistato dall'US Lecce Le prestazioni sportive Di Francesco Di Mariano Chiamato Checco E il video del diciottesimo è meraviglioso Ma questo è per pochi Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo Legandosi al club di Biale del Fante Fino al 30 giugno 2025 Quindi Checco Scusami quindi Checco Oltre a dirti Bentornato a casa Tu Quella cosa La giocherai con noi Comunque A Francesco il benvenuto da parte del Palermo Da parte del City Group Del presidente Mirri E di tutta la famiglia Rosa Nera Era benvenuto Non so parlare A Francesco il benvenuto a Palermo Da parte del City Group E E' un gran colpo Per la categoria ragazzi E' un gran colpo E' vero che qualcuno dirà Ah oh mio dio Ma ha segnato pochi gol Ha segnato pochi assist Ma Entrambe le promozioni Le ha vissute da protagonista Perché Di Mariano è stato Il perno Di quelle squadre Sia a Lecce Che a Venezia E Io non vedo l'ora di vedere Un nostro Un nostro Picciriddu Che è andato via Da piccolo Quindi che mi lega anche a lui Questa cosa A vederlo Corre e lottare Per i nostri colori Perché sono certo Al mille per mille Che è quello che farà E chissà Magari Sarà quest'anno O l'anno prossimo L'anno proprio definitivo Della sua consacrazione Dal punto di vista dei gol Ma comunque È un'ala E sono quasi più importanti Gli assist Che i gol Ma Se riesce ad aumentare Quel bottino A noi Fa solo che piacere Comunque Bentornato a casa Checco Poi Passiamo a Davide Bettella Bettella È un classe 2000 Quindi non occupa lo slot Mentre Di Mariano Essere un 96 Occupa uno slot Ma l'abbia inceluto Luperini Quindi volendo Possiamo ancora testerare Altri giocatori Over Comunicato Il Paermo FC Comunica Deve aver acquistato Dalla Cimonza Le prestazioni sportive Davide Bettella Il calciatore si trasferisce A titolo temporaneo Con diritto di opzione In favore del club Di Viale Delfante A Davide il benvenuto A Palermo Da parte del City Football Group Del Presidente Miri E di tutta la famiglia Rosanero Benvenuto qui a Palermo In Maia Rosanero Per Davide Bettella Un classe 2000 Molto promettente Ci siamo guardati I video suoi Io l'ho visto giocare poco Soltanto qualche partita Ci siamo guardati Qualche video suo Mentre gioca È un difensore moderno Io ripeto Lo conoscevo da football manager Per meno Per le partite Settore giovanile Del Padova Prima poi È andato all'Inter L'Atalanta L'ho acquistato In quelle trattative Che fanno Un po' In Serie A Ok Sette milioni Per il settore giovanile E poi Ha giocato Molto bene A Pescara Hanno degli ottimi ricordi E molto bene A Monza Anche se lo scorso anno Un po' meno Non era di certo Il titolare del Monza Se voi andate a vedervi Sia per Di Mariano E per Di Mariano C'è un amore enorme Da parte dei tifosi Del Lecce E quindi se c'è qualche Leccese che mi segue Che mi dia un feedback Ovviamente positivo Ma anche sotto i post Del Monza Ci sono soltanto auguri E dispiacere Perché questi Sia da parte dei tifosi Del Monza Che del Lecce Ripeto Dispiacere per questi due Giocatori che sono andati via Perché comunque Bettella è un prospetto Per il futuro Mentre Di Mariano Era un perno E molti volevano vederlo Ancora con la maglia del Lecce Bettella ha fatto Tutta la trafila Dell'under italiana Sia dall'under 15 All'under 21 Quindi è un prospetto Per il futuro E abbiamo L'opzione Per il riscatto Perdonatemi A 4 milioni Quindi un giocatore Che vale 4 milioni E secondo me Bettella Se decino di puntarci Per il futuro Chissà Potrebbe tranquillamente Diventare uno dei titolarissimi Io come ho detto Nel video dove l'ho presentato Secondo me Potrebbe essere La riserva del Siaro O del Cioro Non lo so Vedremo se gioca la titolare O riserva Fatemi sapere anche voi Cosa ne pensate Ah Ditemi anche Che numero di maglia Prenderà Di Mariano Perché questo non lo sappiamo Lo dobbiamo scoprire insieme Comunque Io sono molto contento Per me sono due ottimi colpi Di Mariano Per me è un top Per la categoria Bettella In futuro potrebbe diventare un top Sia per la categoria Che non E Bettella è molto bravo È un difensore moderno Raga Bravo tecnicamente Fa dei lanci assurdi E quindi bravo coi piedi Ma è bravo in marcatura Negli anticipi Io ho fatto fare Io ho visto fare Interventi molto molto puliti Dei video si è vero Sembrano tutti forti Ma sapete che io Quando vado a guardare i video E quando li guardiamo insieme Poi sulla piattaforma viola Andiamo Proviamo a captare Quali sono veramente Le doti di quel giocatore E io in Bettella Vedo un futuro Roseo Quindi un giocatore che Avendo fatto tutta la trafila Delle nazionali Secondo me In futuro Potrà diventare Chissà Anche un giocatore Della nazionale maggiore Ce l'auguriamo Perché se dovesse Arrivarci con noi Sarà Significherà Perdonatemi Che sarà diventato Un perno Anche della maglia rosa nere Quindi ragazzi Il video adesso è finito Diamo un enorme bocca al lupo Per entrambi Sono molto molto contento Piccolo spoiler finale Che ho già letto Nel gruppo Telegram Segre sta attraversando Lo stretto di Messina Pieri Quindi sta arrivando Aspettiamolo Io sapete Quando ve l'ho annunciato Sempre Forza Palermo E stasera Ci vediamo in live Per Bari Palermo Non mancate